Siamo a Marteo, a Marteo. Di storia a te, è una serata perfetta. E' un cartellone, grazie, un cartellone. Un cartellone, senti un insbuss. Non l'ha detto lui, sono da due o tre mesi che so. Sono da sei mesi che so. Ho fatto questo così a guofo a dentro. Ti sentite che è insbussi, ma l'ha detto lui. È un cartellone, è un cartellone. Siamo tutte le ragazze, ma l'ha detto l'amore, sono le ragazze. Un tiro che suavef нас, va stare a fare! Abbiamo un po' più. Sì. ikan… E così hai letta… Bene, uno di questi casi un po' più avviene. Un po' più avviene. AARIAN.